ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale dopo la pausa della settimana scorsa dei kit di perline Fimo & Co, la pausa del compleanno dove avete trovato sul sito lo sconto del 20 per cento quindi non sono stati fatti i kit in quel contesto ma vi è stato riservato uno sconto su tutto il sito. Quest'oggi invece tornano i kit, venerdì c'è stata la diretta quindi qua davanti vedete i kit e anche una novità che vi voglio mostrare visto che vi era piaciuto tanto il tema tappetini la volta scorsa e quindi ora sposto tutto quanto inizio a mostrarvi tutto quello che vedete qua davanti nel dettaglio. Ecco come vi dicevo inizio subito dal fatto che durante la presentazione dei miei acquisti la settimana scorsa proprio per mostrarvi gli articoli e per esservi utili diciamo nei vostri acquisti durante anche i saldi vi avevo mostrato se ricorderete il tappetino o anti scivoli in apertura la volta scorsa. Sono andati letteralmente a ruba quindi al momento purtroppo non ci sono speriamo che tornino presto però vi voglio far vedere questi altri tappetini che sono arrivati. Allora sono i classici che conosciamo quelli che che tanto ci piacciono quelli vedete in questo tessuto solo che la novità è questo bel tono di bordeaux. Voi lo vedete un pochino più acceso però è un bellissimo bordeaux e a me è piaciuto tantissimo quando l'ho preso infatti nonostante che non sono senza tappetini mi sono presa il mio tris di tappetini perché questi sono i classici tappetini economici che vengono venduti a tris di tre quindi vedete qua il bel il bel bordeaux appunto abbiamo il classico panna e questo beige quindi i colori sono come sempre random in più c'è questa possibilità di avere questo bordeaux che ce ne erano pochi pezzi perché come abbiamo detto ne avanzano 11 quindi per le prime 11 persone che prenoteranno questo tris e desiderano all'interno del tris anche il bordeaux potranno comunicare ad analisi e se sono fra le prime 11 potranno averlo quindi questi sono i tre il tris di tappetini economici che trovate sul sito appunto vi lascerò il link e poi vi faccio vedere un'altra bellissima novità a proposito sempre di tappetini eccolo qua allora questo che cos'è questo è il tappetino il vassoio chiamiamolo così da per perlinare ad esempio sul divano quindi come vedete a questi bordi all'interno potete mettere eventualmente il vostro tappetino la misura la vedete qua ecco si vede senza riflesso 35,6 per 22 27,9 quindi come potete vedere non riesco a farvelo vedere per intero ma una bella a misura per chi appunto desidera a perlinare comodamente sul divano questi da quanto capito non verranno inseriti sul sito perché ce ne sono veramente pochissimi quindi contrattate analisa se vi interessa che sicuramente ve lo terrà da parte ve lo spedirà insieme ai vostri ordini però affrettatevi perché come era successo anche per il tappetino antiscivolo anche di questi ce ne sono veramente pochi quindi affrettatevi se vi interessa ora sposto quindi il vassoio da perlinaggio e vi faccio vedere i kit invece che abbiamo presentato durante la diretta vediamo quindi ora insieme il contenuto dei kit che sono stati presentati venerdì durante la diretta sono tornate ad arrivare l'esso quindi altre magnifiche colorazioni di queste perline che ormai avevamo messo nel dimenticatoio ma che analisa è riuscita a trovarci nuovamente quindi siamo tutte felicissime di questa cosa quindi oltre ad essere stato riassortito il kit proposto la volta scorsa quindi tutte le colorazioni di quel kit sono arrivati tanti altri bei colori quindi analisa ha deciso di realizzare altri due kit quindi oltre ad aver riassortito quello precedente sono stati realizzati due nuovi kit nonché tutte le colorazioni che vi mostrano adesso le troverete anche sfuse da sito quindi a voi la scelta di prendere i kit a un prezzo vantaggioso oppure selezionare direttamente da sito le colorazioni che più vi interessano parto dal dal primo kit che penso che l'abbia chiamato il kit esso 2.0 perché è il primo che abbiamo fatto vedere venerdì e sarebbe il secondo in ordine cronologico visto che il primo è stato presentato appunto qualche settimana fa allora colori tutti bellissimi partiamo dal primo eccolo qua questo bel celeste sono confezioni come sempre da a 5 grammi da sito non ricordo ma mi sembra che sono da 5 grammi anche da sito poi verificheremo insieme vi lascerò il link anche alla categoria delle so così potete andare a vedere tutte le colorazioni anche sfuse quindi prima colorazione abbiamo poi questo bel tono di giallo questo verde abbiamo poi questo altro tono di celeste questo in assoluto il mio preferito il verde acido guardate che meraviglia nel suo credo che non l'avevo proprio mai visto quindi ottimo abbiamo poi il pitch sono tutte colorazioni pasta in queste il rosa abbiamo poi quest'altro bel colore marrone e per finire c'è un blu che però analisa mi ha comunicato che si è sbagliata ad inserirlo io ve lo faccio vedere perché comunque c'è sempre all'interno di questo kit che il 2.0 un blu ma è più scuro questo come vedrete velocemente vi farò vedere anche il primo se non avete visto la volta scorsa questo è contenuto questo colorazione contenuta nel kit nel primo kit di esso quindi io ve lo faccio vedere lo stesso perché io questo adesso appena mi riferò al magazzino cambierò la bustina perché è un blu più scuro di questo qui comunque come vedete sono ben 10 colorazioni comunque che trovate all'interno di questo kit e lo trovate appunto da questo momento in vendita sul sito perlinefimenco sposto il primo kit e vi mostro l'altro ed eccoci arrivati al prossimo kit di esso dovrebbe essere appunto il 3.0 se non vado errata e vi mostro subito le colorazioni che sono stupende sono nove colorazioni in questo caso sempre ovviamente da cinque grammi e ritroviamo una sola delle colorazioni pastel che è questa dopodiché sono tutte colorazioni come vi dicevo particolari allora abbiamo il cristal ab sempre meraviglioso questo colore che dona un sacco di luce alle nostre creazioni abbiamo poi sono tutti belli non saprei quali prendere per primo per dire lascio per ultimo migliori perché sono tutti bellissimi questi colori abbiamo questo argento labrador secondo me è quello mezzo e mezzo se vedo bene da dietro una fotocamera mezzo cristale e mezzo argento silver poi abbiamo questo magnifico oro rosa anche in questo caso è mezzo cristal sempre sui toni dell'oro rosa e mezzo pieno magnifico abbiamo poi questo guardate che spettacolo di trail come colorazione abbiamo poi quest'altro qui e guardate che meraviglia questi colori ve li mostro fuori dalla bustina perché sicuramente vanno visti più da vicino ecco qua guardate che meraviglia bello bello questo colore adesso vedrete anche gli altri veramente tutti spettacolari assolutamente da non perdere queste perline mettiamo qua procediamo con questo e mostro anche questi fuori dalla bustina per farvi capire la bellezza di questi colori di queste finiture belli 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 questi colori si perdiamo un istante in più ma sicuramente ne vale assolutamente la pena perché così potete vedere meglio i colori allora ci sono rimasti gli ultimi due che sono i miei preferiti sono riuscita comunque a trovare due preferiti anche se come vi dicevo sono tutti belli guardate questo che spettacolo e per finire un colore che mi ha lasciato veramente senza parole guardate che meraviglia questo blu mezzo blu e mezzo oro praticamente il blu è tipo lavoro e poi la parte appunto quella dorata ed è bellissimo bello 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 adoro questo colore quindi queste sono l'esso il 3.0 sono 9 colorazioni come vi dicevo per 5 grammi ora sposto queste vi faccio vedere velocemente perché l'avevo già mostrato appunto in un video precedente dedicato quando sono state presentate quelle colorazioni però per chi non ha visto quel video e per chi non ha acquistato quelle su ve le faccio rivedere velocemente perché comunque avete la possibilità sia di riprendere o riprendere il kit perché è stato riassortito oppure di prendere le colorazioni che vi mostro anche direttamente sciolte da sito quindi ve le mostro subito ecco le quale 10 colorazioni del primo kit che è stato presentato appunto qualche settimana fa lo ritrovate disponibile quindi vi lascerò al kit il link anche di questo kit come vedete troviamo anche quelle celeste che per sbaglio analisa a quel che analisa per sbaglio ha messo nel 2 come vi dicevo nel 2 ce n'è uno più scuro che ora non ho qui da mostrarvi però le colorazioni appunto sono queste qua del primo kit sono come ripeto 10 e sono veramente tutte bellissime ora dopo avervi riassunto anche quest'altro kit passo a mostrarvi altre due chicche altro kit tanto amato è il kit perni in acciaio spring l'avete già potuti intravedere dalla dall'anteprima in apertura a ve li faccio vedere li ho messi anch'io sulla sulla cartina in modo che ve li faccio vedere al meglio eccoli qua voi come di consueto li riceverete nella sua bustina con i relativi gommini ogni coppia ha come sempre i gommini io li ho messi sull'espositore come abbiamo fatto vedere in diretta per farveli vedere più agevolmente guardate che meraviglia i perni spring la numerazione non ricordo quale siamo arrivate però insomma vi lascerò il link troverete appunto fra le novità anche questo kit sono uno più bello dell'altro guardate che meraviglia tutti i fioriti ecco qua il secondo guardate che spettacolo bellissimi vi ricordo che l'anellina qua è apribile quindi la possibilità di attaccare direttamente la creazione al perno guardate quest'altro che meraviglia questo spettacolare anche lui bellissimo ricordate questo pieno di colore quest'altro un altro che mi piace tantissimo e questo guardate che meraviglia questo bellissimo cerco di farvi stare tutti quanti nell'inquadratura guardate che belli che sono abbiamo poi l'ultima coppia quindi come vedete lì davanti sono 2468 con questo facciamo 9 quindi 9 perni questo bellissimo kit che trovate veramente a un prezzo super super vantaggioso guardate che meraviglia anche questo mi piace tantissimo bene eccoli qua quindi tutti quanti i perni spring di questo nuovo nuovissimo kit ora sposto i perni vi faccio vedere l'ultima cosina l'ultima cosina che vi mostro non è un kit ma un'altra bellissima novità che abbiamo mostrato durante la diretta venerdì quindi ci tenevo a farvela vedere questi li trovate direttamente nelle selezioni da sito fra le novità vi lascerò il link anche a tutte le novità così potrete direttamente vedere anche questi bellissimi caboscione rettangolari sono 18 per 13 hanno la particolarità di essere già incastonati con i relativi fuori per appunto o poterli cucinare assemblare guardate che meraviglia di colori abbiamo questo primo colore abbiamo poi questo guardate che bello tutti quanti ovviamente con il loro castone che sono colori bellissimi guardate abbiamo poi quest'altra colorazione guardate belli belli e per finire questa che è bellissima anche lei guardate quindi questi sono i caboscione rettangolari che trovate anche questi fra le novità io quindi vi ringrazio per aver visionato questo video spero che come di consueto che vi possa essere utile grazie di seguirci sempre con affetto anche durante le nostre dirette se non le avete mai seguite vi raccomando di mettere like alla pagina di perline film in co che vi lascerò linkato qui sotto come sempre come sempre vi lascerò anche il gruppo dove potete vedere magari delle spoiler degli spoiler delle novità quindi io ringrazio come sempre anche analisa per la sua ospitalità durante le dirette e noi ci vediamo alla prossima ciao grazie 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 grazie